L'aspettativa più grande non per la Camera di Commercio ma del sistema economico che la Camera di Commercio rappresenta è sicuramente quella di vedere rifiorire le attività, rifiorire anche i risultati delle attività e questo crediamo che possa essere davvero un risultato possibile perché le crisi è vero che mettono in ginocchio le economie ma fanno anche risorgere le idee, fanno anche risorgere dei modi nuovi per restare sul mercato e soprattutto per essere delle imprese davvero competitive e davvero presenti in ogni parte del mondo.